Buonasera. RAL 5020, meccanismo umano. Abbuffata di locuzioni, inghiotto virgole ad una ad una. Ciglia perse al batter d'occhi, mentre vedo che mi distingui. Sono sazia. Le donne hanno bisogno di nindoli per mettersi in salvo. Minuscole pietre colorate, sassi che rimbalzano su inerti acqua e lacustri. Malinconicamente. Nindoli da amare, nella confusione di statue. Così diventiamo materialisti, assurdi nella collezione del nulla. A mucchiare specchi alle pareti, poi non guardarsi più. Ospiti per banchine levigate, soste scomode, battigie umide e sovraffollate. Colonizzazione di figure esterili. Tin 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 tin. Tocco i nindoli. Tin tinano. Calmano. Sull'altra sponda, tu. Lo scuro degli occhi. RAL 8007. Il corpo è una mappa di accadimenti da inseguire con l'anulare sinistro. Una libreria sgangherata. Il tempo delle letture. Parteciparci non in assenza. Tin tin tin. Antiriviene di battelli. Assortimento di lacrime miste all'ansia. Ampio sia il mio spazio. Accurato il mio dito. Non so più respirare. Dimentico il meccanismo umano. Ne scappare. Cancellata la sequenza dei passi. Tin tin tin. Abbozzo colori su questa seduta di sassi e ombrosi. Sola, con le sentenze scommesse ridicole della domenica abusata per mancanza di vergogna. Adottami, vedi? Mi tengono pezzolante sui puli. Acrobata di un circo. Tin tin tin. E' quella la posizione giusta da tenere nel racconto di una storia. Adottami perché mi strangoleranno. Cadrò nel blu immobile. RAL 5.020. Sono il tuo ninnolo di donna. Da strofinare in caso di spinte inevitabili. Non è uso. Casa. Letto. Riproduzione. Sopravvivenza soltanto. Vita. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Claesm. However, non èbbe, non èuis vote. Non èettamente meno grande, Sopravvivenza. Grazie.